Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Studiare più libri per una stessa materia. Come si gestisce il materiale, quando è numeroso, quando è costituito da più elementi, a prescindere che questi siano dei libri, però nello specifico oggi ci concentreremo su questo. Allora, andiamo, come sempre, a partire dalla base. Quando studiamo il più delle volte, le materie che incontriamo saranno costituite da almeno un libro più altri libri, magari slide, dispense, quindi in generale il materiale è molto. E quello che ti vado a proporre è un meccanismo in due step, che ti spiegherò fra qualche istante, che vale in modo trasversale per qualunque tipo di materiale, anche se, per esempio, non include dei libri. Però faremo questo esempio nello specifico perché ritengo sia quello un po' più pertinente e anche statisticamente più presente. Quindi, nel momento in cui ci troviamo a studiare e abbiamo davanti a noi più di un libro, siano questi due o tre, qual è l'approccio giusto da utilizzare? Voglio proporti due prospettive che sembrano escludersi, ma che in realtà sono perfettamente complementari. Vediamo la prima prospettiva. È la prospettiva delle differenze. Quando vai a studiare, cerca di capire qual è la differenza, o, più specifico, quali sono le differenze presenti tra i diversi tipi di elementi che devi studiare, di materiale, di contenuti, di libri. Quindi, per esempio, il più delle volte c'è sempre un manuale e poi andiamo ad aggiungere un monografico, qualcosa di approfondimento, o anche più di un libro per l'approfondimento, o magari anche più di un manuale. Cosa stiamo facendo in questo momento? Andiamo ad individuare le differenze, perché in un manuale verrà utilizzato un certo tipo di linguaggio, ci sarà un focus su tutta una serie di argomenti, di temi che rappresentano un po' gli elementi cardine di quell'argomento, o sostanzialmente di quella materia che stiamo studiando. Nei monografici, nei libri di approfondimento, invece è più probabile trovare uno o due, o comunque un numero limitato di argomenti che vengono giustamente approfonditi, di cui si va a scoprire ogni dettaglio, ogni minuzia. Quindi, come vedi, abbiamo delle differenze nette. Un testo o una tipologia di testi come manuali saranno più generici, ma in grado di fornirci una preparazione su più aspetti. Qualcosa come un monografico ci renderà in grado di conoscere dei dettagli, ma solo su elementi specifici. Ecco che queste differenze ci permettono di partire da un punto e arrivare ad un altro. Il mio consiglio in questo caso è partire sempre dai manuali, avere quindi una buona impostazione con i manuali, e di conseguenza andare ad aggiungere tutto quello che ti interessa, tutto quello che ti serve, non tanto con i manuali, ovviamente, ma con i monografici, quindi quello che serve per l'approfondimento. Ora, come vedi, c'è una spiegazione dietro l'utilizzare una certa tecnica, utilizzare una strategia per l'apprendimento, scegliere un modo di gestire il materiale, perché c'è qualcosa che funziona, quindi un approccio corretto, e c'è qualcosa che invece ti porta lontano dai risultati universitari che vorresti aggiungere, dall'ottenere voti altri, dallo studiare in modo efficace, senza sprecare tempo, senza sprecare energia e senza doverti accontentare di voti che non sono pessimi, ma sono comunque mediocri, comunque non quelli che vorresti. Ecco che io ho creato uno strumento perfetto per risolvere un po' qualunque situazione universitaria, perché da ex universitario so esattamente che cosa vuol dire studiare, nello specifico la mia preparazione nel campo psicologico mi ha permesso di scoprire come funziona la mente, quando apprende, e quindi ho utilizzato queste conoscenze, queste competenze nella mia carriera universitaria, e le ho formalizzate in un videocorso, che si chiama Metodo DQE, DQE è un acronimo, sta per Domina Qualunque Esame, il nome non è scelto a caso, ed è proprio indirizzato a farti capire come la differenza tra riuscire a superare una volta ogni tanto un esame con un buon voto, altre volte, il più delle volte, con un voto mediocre, e alcune volte anche rischiare di essere rimandati, non è qualcosa che è dato dalla sfortuna, ma è dato dal fatto che non utilizziamo lo strumento corretto per arrivare all'obiettivo prefissato. Ecco che il Metodo DQE è proprio quello strumento che risolve le problematiche di qualunque studente o qualunque studentesse, ma perché ho queste pretese che associo proprio a questo metodo? Ovviamente l'ho costruito io, quindi so com'è fatto, ma a questo si aggiunge anche il fatto che è costruito su dieci moduli, sui dieci aspetti più importanti a livello dell'apprendimento. Quindi saprai tutto in merito a fasi di studio, come pianificare, come gestire il tempo, dall'interno accademico, che ti permetterà quindi di utilizzare il Metodo DQE lungo tutta la tua carriera universitaria, ma ti farà capire anche cose che devi fare giorno per giorno, quali sono le fasi di studio, quali sono le tecniche di ciascuna fase di studio, con aspetti teorici ed aspetti pratici. E poi ti farò capire come si personalizza il Metodo DQE, ti accompagnerò anche durante l'esame con dei trucchi che ho sviluppato ovviamente in tanti anni di carriera. Quindi ti invito a dare un'occhiata al Metodo DQE, ti lascio il link in descrizione, e se hai anche dei dubbi, dei quesiti, ti posso rispondere tranquillamente o nella sezione dei commenti, o attraverso i contatti che trovi all'interno della descrizione. Detto questo, voglio andare a concludere il discorso dello studiare più libri per una materia, aggiungendo al primo lato, al lato delle differenze, anche quello delle somiglianze. Una volta definito cosa distingue un libro da un altro, o un libro da altri libri, manuale, da monografici, aspetti più generali, aspetti più specifici di approfondimento, andiamo a cercare le somiglianze. Quindi cerchiamo di sforzarci in quello che sembra l'opposto, ma che in realtà integra perfettamente il lavoro fatto prima, perché cerchiamo di creare dei collegamenti. Quante volte ci siamo sentiti dire che i collegamenti sono fondamentali? Si capisce che qualcuno ha studiato perché sa fare dei collegamenti. Ecco dove sono i collegamenti. Andare a capire esattamente come collegare informazioni del manuale, più generiche, a qualcosa di più approfondito, ti permette di muoverti dall'uno all'altro, o anche se sono più libri, con la massima libertà, dimostrando una preparazione completa e consapevole del materiale. Quindi ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, per l'attenzione che mi dedico ogni giorno, e io con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani.